Ma guardi, io veramente in campagna elettorale sono venuto a Firenze testendo gli elogi di Renzi, come lei ricorderà. Renzi lo ritiene vincente ancora di più ora? Non lo ritengo vincente perché non ci sono le elezioni, quindi non mi pare che questo sia un grande argomento. Lo ritengo una delle personalità importanti di questo partito. Allora gli dissi che, per esempio, avevo apprezzato il modo in cui lui stava dando una mano a Bersani nel corso della campagna elettorale, dimostrando spirito di partito. Io non ho mai attaccato Renzi, è Renzi che attaccava a me veramente, non ho mai attaccato nessuno. Non è che non lo so che cosa voglia, comunque io sono sempre qui. Può darsi che lui abbia sempre questo obiettivo, però dal punto di vista parlamentare io non sono più parlamentare, quindi mi sono autorottamato. Ho promosso il rinnovamento, dal punto di vista del mio ruolo politico è sempre qui, come vede, il problema è già risolto in un senso o nell'altro.